Siamo alle interviste del nostro venerdì di almeno due pagine al giorno perché vogliamo raccontarvi un libro che ci è piaciuto moltissimo e che ci ha scaldato il cuore perché fa anche il paio con il libro di cui abbiamo parlato qualche giorno fa di Chiara Colombini, storia passionale della guerra partigiana. Per parlare di tutto questo sono contento di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Carlo Greppi in collegamento con noi. Ciao Carlo. Ciao Francesco, grazie mille. Grazie a te per aver accettato il nostro invito per parlare di un libro, dicevo poco fa, che ci ha davvero scaldato il cuore. Intanto, insomma, questo mi permette di far vedere anche la copertina perché Carlo Greppi ha scritto I Pirati delle Montagne, ecco qui la copertina, pubblicato da Rizzoli il 24 ottobre del 2023. Allora Carlo, intanto entriamo subito in partita. Chi sono i Pirati delle Montagne? I Pirati delle Montagne sono un gruppo di ragazzi con una giovane mascotte, Giorgio ha detto il mozzo, che è decisamente più giovane degli altri, ma in qualche modo fa un percorso di crescita all'interno di questa sua esperienza nella resistenza. Sono dei partigiani provenienti da varie nazioni e da vari continenti che si trovano per ragioni diverse, chi perché è disertato, chi perché è scappato dai campi di prigionia fasciste e chi perché è in età di leva, perché ci sono anche dei locali, a combattere insieme contro il nazifascismo. Nel libro non si dice mai che sia in Italia, ma chiaramente il contesto di riferimento è quello della guerra partigiana per riprendere lo splendido libro, il titolo lo splendido libro di Chiara in Italia. Comunque gli anni sono quelli tra il 43 e il 45 e ho deciso di scrivere un romanzo storico rivolto soprattutto ai giovani e alle giovani, ma ovviamente a tutti e a tutte, nel quale far precipitare una serie di personaggi, riflessioni, anche avventure, episodi che però sono documentati. Per cui poi c'è al fondo una nota dell'autore in cui svelo rapporti tra fiction e non fiction, ma tutta l'avventura dei pirati, così si sono ribattezzati, avviene in luoghi finzionali, da Framonti alla vetta dei tre cucuzzi, la città si chiama Città, eccetera, eccetera, che ricordano sostanzialmente la resistenza nell'Italia centrosetenzionale appunto tra il settembre del 43 e l'aprile del 45. Esatto, e a parlare Carlo, diciamo la voce narrante se vogliamo di questo romanzo, è un ragazzo giovanissimo che in realtà, che è Giorgio il Mozzo, che, come dire, si trova a fare i conti diciamo con una realtà che lui insomma inizialmente percepisce distante, perché lui in realtà è figlio di quel periodo, perché lui i suoi 13 anni li ha vissuti tutti dentro il tempo fascista, insomma ti chiedo scusa per la semplificazione. In realtà è una sorta di educazione sentimentale se vogliamo, perché insomma nel romanzo cresce notevolmente il personaggio, il corpo diciamo del protagonista, della voce narrante, diciamo che si fa i conti con questa internazionalizzazione diciamo della resistenza, che è uno degli elementi dal mio punto di vista più affascinanti di questo romanzo. Perché decidi di, come dire, di dar voce ad un ragazzino di 13 anni molto giovane, che comunque ha dei riferimenti anche letterari, perché nella nota molto corposa in coda al libro tu parli insomma anche di tuoi riferimenti letterari, anche infantili, che hai portato se vogliamo dentro questo romanzo. Allora, mi piace molto la definizione che hai dato fra educazione sentimentale, educazione etica, civile, prima ancora che politica, nel senso che il rapporto che Giorgio ha con questi ragazzoni più grandi di lui è un rapporto anche d'affetto, diventano come fossero dei fratelli, delle figure anche paterne sotto certi aspetti che si occupano di lui. Perché scegliere questo punto di vista? Mi è stato chiaro fin dall'inizio che, soprattutto considerando il target principale di riferimento del libro, sarei dovuto entrare in quella storia, comunque una storia anche tragica, oltre che esaltante, perché alla fine la libertà fu conquistata a caro prezzo, un po' lateralmente, un po' in punta dei piedi, un po' attraverso questo sguardo che, appunto, sì, lo sguardo è quello di Giorgio, perché viene curato, c'è una protezione da parte dei più grandi nei confronti di Giorgio, che man mano inizia a cadere nel suo passaggio dai 13 ai 14 anni, appunto 20 mesi di guerra civile e internazionale sono lunghi, per cui lui cresce. E dunque è anche un modo, credo, per entrare con la giusta cautela, soprattutto se sei giovane, appunto, dentro questo tema. La dimensione della guerra internazionale è una delle novità degli studi degli ultimi anni, che, insomma, è davvero entusiasmante, per cui ho voluto mettere il carro davanti ai buoi, come si dice, nel senso, prima uscire con un romanzo storico rivolto appunto a un target giovane, per poi uscire, sarà l'anno posto, più o meno tra un anno, con la storia internazionale della resistenza italiana, curata da me e Chiara Colomini per la terza. Sì, dichiaro spassionatamente, appassionatamente i miei riferimenti letterari, che vanno, appunto, diciamo, da tutti i cicli salgariani, per cui anche questo amore per la pirateria nasce da lì, insomma, per la storia della pirateria, che poi ho studiato poco, ma un po', insomma, un po' di cose le ho lette negli anni, e per i miei grandi modelli, invece, di letteratura resistenziale, ovviamente inarrivabili, che però hanno anche, insomma, parecchi decenni di vita, che sono innanzitutto L'educazione europea di Romangherì e I sentieri di ragno di Calvino, due libri scritte, appunto, e pubblicati negli anni 40, che hanno entrambi un ragazzino come protagonista, Yannick per Gerì e Pin per il sentiero. Poi c'è anche Fenoglio, c'è anche Meneghello, insomma, ci sono tantissimi, c'è il Boca, ci sono tanti omaggi, anche testuali, ai grandi pilastri della letteratura resistenziale, tutti dichiarati, che però, non a caso, secondo me, hanno avuto, almeno in questi due casi, scusa il bisticcio, hanno adottato proprio lo sguardo, diciamo, della voce narrante a fianco a un ragazzino. Un parterre fondamentale, insomma, di narratori, notevole, bellissimo, tra l'altro, però, insomma, volevo fare anche un passo indietro, perché al di là della nota finale, molto corposa, molto densa, che è sempre molto appassionante leggere nei tuoi libri, perché, insomma, lì, tu dicevi anche in un'intervista, io spero che leggere questo libro ci faccia venire voglia di leggere anche altri libri, insomma, effettivamente è molto contagioso, diciamo, anche questo tuo romanzo. È interessante anche quella tripla nota all'inizio del romanzo, la nota linguistica, la nota storico-letteraria, la nota geografica, la nota linguistica mi ha colpito molto, perché in realtà sono quasi tutti stranieri, questi pirati, questi banditen, che però non potevano non capirsi, scrivi tu, perché in realtà la patria è il mondo intero. E vengo qui alla domanda perché si parla di patria e di libertà a un certo punto. All'inizio il mozzo, Giorgio, dice sono pronto a morire per la mia patria e per la libertà. Qualcuno gli fa notare che la patria non c'entra niente, la libertà quella sì. è attualissimo il tema legato, come dire, anche a come dobbiamo nominare il posto in cui viviamo, che amiamo e che dovremmo difendere. La patria, la nazione, insomma, si fa uno sproloquiare, diciamo, totale intorno a questi temi. Carlo? Sì, guarda, quella nota è stata anche dipensata fin dall'inizio, perché sul piano del libro, poi arrivo al piano del tema, volevo, come dire, in qualche modo essere fedele alla storia che volevo raccontare, ma d'altra parte mi viene in mente, mi è venuto in mente fin dall'inizio, L'appartamento spagnolo e Le Puppe Rusche, che è il suo seguito, due film, insomma, importanti per la generazione Erasmus, che sono tra gli unici di un certo successo che io ho visto, in cui si usano varie lingue, si parla in inglese, in francese, in spagnolo, in catalano, ed è normale, perché l'Erasmus era quella roba lì, chi l'ha fatto lo sa, no? E anche poi, insomma, chi ha continuato a vivere vite internazionali. E in questo caso io ho scelto di sporcare la lingua di ciascuno con espressioni gergali, appunto, della propria lingua madre, però, appunto, usando comunque l'italiano, insomma, una comune lingua nel corso del libro. Senza cascare, se possibile, negli stereotipi. Un esempio, Kurt, il tedesco, è un grezzone, non è come ce lo immaginiamo. Per cui ho anche un po' giocato con gli stereotipi. Rispetto al tema serissimo che sollevi, allora, chiaramente, patria e nazione sono due termini incandescenti, che hanno fatto decine di milioni di morti negli ultimi... Forse no. ...prodotto decine di milioni di morti, e che hanno, oltretutto, come dire, due sottotesti antitetici, fondamentalmente. Cioè, la patria è la terra dei padri, e la nazione è la terra in cui nasci. Per cui, lo ius sanguinis, lo ius solis. Se vogliamo tornare a un dibattito molto attuale. Proprio di recente, l'altro ieri, se non sbaglio, ho recensito per la stampa il libro di Marco Damilano, il giornalista, La mia piccola patria, storia corale di un paese che esiste, che scrivo che è un tentativo, secondo me, davvero incommiabile di dare un senso inclusivo, positivo e accogliente all'idea di patria. Ma, scrivo anche, lo dico da tempo, che, secondo me, quella è una partita persa. Ormai è un concetto, diciamo, quello legato in qualche modo a identità relativamente fisse, comunque territoriali, che è completamente inquinato dall'8-900, dal nazionalismo assassino nel 900, che ha tutti i suoi figli e nipoti a oggi presentissimi, i cosiddetti sovranismi, che altro non sono, che nuovi nazionalismi. E dunque, anche l'idea, se vuoi, di difendersi, è sempre legata in quel contesto come negli anni, dovrebbe essere sempre legata, questo chiaramente è un wishful thinking mio, a un'idea di libertà e non un'idea di territorio. Su questo discutiamo anche molto con Chiare, e non solo, nel senso che è evidente che all'epoca, per i resistenti, poi ti ridò la parola, la dimensione patriottica era centrale. Come Giorgio era vissuto integralmente durante il ventennio fascista, le persone, i resistenti, erano figli del loro tempo, c'era un internazionalismo, ma era sicuramente minoritario, e molti combattevano, come dire, riempiendosi la bocca e la penna quando scrivevano le ultime lettere della parola patria. Ma avevano, come dire, un'idea di patria che se vuoi era l'antidoto, all'idea stessa di patria, scusa il bisticcio. Cioè, faccio un esempio concreto che mi colpì molto quando lavorai al mio libro Il Buon Tedesco. Anche chi aveva combattuto con dei tedeschi come compagni di lotta, poi magari produceva al volantino il libretto commemorativo in cui parlava di barbaro teutonico, come se la barbarie fosse tedesca e sacci in quanto tale, e non della Germania nazionalsocialista che aveva piegato milioni di tedeschi, come dire, ai suoi obiettivi. Io non smetterò di suonare questo tasto per tutta la vita, ne sono sicuro. è utopico superare queste idee? Forse sì, ma le utopie vanno perseguite. Le utopie vanno perseguite, concordo assolutamente. Ovviamente, insomma, ci sono tanti elementi e tanti motivi per leggere questo libro. Per esempio, ci sono delle pagine tutte ancorate ovviamente alla storia con la S maiuscola di questa partita di calcio cecoslovacchia-fossano che è bellissima, diciamo, anche nel racconto che tu ne fai, oppure, insomma, ci sono tante pagine che fanno riferimento al cinema. Tu ne hai parlato poco fa a proposito dell'Erasmus, ma, insomma, è un libro profondamente cinematografico, anche questo qui. Volevo rubarti ancora un minuto per, lo so che non basteranno mai tutti i minuti di questo mondo, però, per ragionare. Questo è l'appello e l'invito che tu fai anche nelle interviste che stai rilasciando intorno allo studio che bisogna fare del movimento internazionale di resistenza, perché si parla di 15-20 mila persone da tutto il mondo e, insomma, all'interno di una, per smontare anche un'altra falsa notizia, cioè che, insomma, che i partigiani in Italia fossero anche soltanto bianchi e così via. Non è così, insomma, il movimento era molto, molto corposo, no, Carlo? In chiusura. Sì, sì, assolutamente. Ci fu questo articolo dei Wuming sul loro blog del 19 Partigiani Migranti che era un primo censimento e fu utilissimo anche agli studiosi per, come punto di ripartenza che già censiva oltre 50 nazionalità nell'essenza italiana, prima ho detto di tutti i continenti, c'erano anche africani e afroitaliani, la banda Mario nelle Marche l'ha raccontata egregiamente Matteo Petracci che peraltro è uno tra gli studiosi che collaborerà, che parteciperà alla storia internazionale della resistenza alla quale stiamo lavorando e è una dimensione gigantesca, pachidermica, chiaramente stiamo parlando di una minoranza, appunto, per l'essenza italiana all'incirca 1 su 10, ma all'incirca 1 su 10, insomma, poi confermeremo queste stime o le modificheremo leggermente, non 1 su 100, cioè non sono delle curiosità, è una presenza sostanziale al punto che su questa immagine posso chiudere, perché ci sarebbero tantissime cose da dire, sto da qualche mese iniziando a focalizzare appunto sempre un po' in maniera superficiale però un dato centrale c'è che all'inizio della resistenza 80 anni fa esattamente, prima che arrivino i banti graziani nelle prime settimane e nei primi mesi, verosimilmente gli stranieri sono una grossa parte della resistenza con i vecchi antifascisti e militari che si danno alla macchia, potrebbero essere in molte zone anche un terzo della resistenza, cioè il nucleo di base della resistenza, quello anche formato militarmente che permette alla resistenza di partire sicuramente a una vasta partecipazione non italiana, poi quando arrivano i bandi tutto questo si annacqua perché poi alla fine l'80% dei resistenti saranno appunto ragazzi 23, 24, 25, 26, quelli che mandano i bandi migrazioni deserti fondamentalmente o comunque che si rifiutano di aderire e allora sì come dire oggi in particolare è un rinnovamento degli studi che deve essere assolutamente centrale e mi entusiasmo a partire come dicevo prima da un libro per ragazzi per cui diciamo esagerandola ai ragazzi e alle ragazze arriva prima la storiografia che agli storiografi ecco esatto e allora questi sono alcuni dei contenuti dei pirati delle montagne di Carlo Greppi pubblicato da Rizzoli ecco ancora qui la copertina Carlo intanto grazie per averci dedicato il tuo tempo so insomma sei sempre molto molto preso e sempre in giro però insomma abbiamo assolutamente bisogno del tuo racconto della tua scrupolosità insomma del tuo rigore storico per cui grazie ancora per essere stato ad almeno due pagine al giorno grazie a te Francesco un abbraccio buon lavoro grazie buon lavoro a te buon lavoro a te buon lavoro a te Grazie a tutti.